Luigi, Luigi Di Maio e Peppe Grillo sul palco, eccolo qua Luigi e Peppe Grillo, un applauso, un forte applauso, facciamo sentire il colore di Dario Gaglielmo, forza! Il colore della gente che stasera in piazza partecipa attivamente a questo nostro incontro fatto dall'Associazione Marittimi per il Futuro. Allora io voglio, innanzitutto voglio ringraziare a tutti quanti voi per essere intervenuti così numerosi. Siamo qui stasera perché in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo l'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco ha invitato tutti i candidati premier ad un incontro pubblico in città. Ad oggi ha accettato l'invito ed è qui stasera con noi il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. E qui abbiamo il leader del Movimento 5 Stelle, Peppe Grillo! Che saluto e ringrazio a nome mio e di tutta l'Associazione. Siamo qui stasera per discutere delle problematiche del comparto marittimo italiano che rappresentano una bianca sociale del nostro territorio. La categoria vive un momento di forte crisi sul fronte occupazionale. Noi come associazione, sin dalla nostra Costituzione, siamo portando avanti una mobilitazione a tutti i livelli per difendere l'occupazione dei marittimi italiani sulle navi. Vogliamo chiedere questa sera al Movimento 5 Stelle che ha raccolto la nostra istanza come intende affrontare questa emergenza per salvaguardare migliaia di posti di lavoro del compartimento marittimo messo a rischio dalle sciallerate politiche attuali. Ricordiamo che Torre del Greco è il secondo compartimento marittimo in Italia per numero di scritti delle matricole dalla gente di mare un dato significativo che deve farci riflettere e ripensare in maniera incisiva e decisiva al futuro della categoria. vogliamo dalla politica risposte chiare e di impegni concreti. Ecco perché noi abbiamo fatto questo. Perché come noi che ci mettiamo la faccia, anche loro ci stanno mettendo la faccia. Quindi noi stasera abbiamo un'opportunità che ci faremo sentire dal Movimento 5 Stelle. E adesso io voglio passare la parola a un momento, signori lo so che è tremente questa cosa ma un saluto il Presidente dell'Associazione lo deve fare e al nome di tutta la nostra associazione. Buonasera a tutti. Sono felice che siete tutti in piazza. Come diceva il Capitano Esposito, noi abbiamo invitato a tutti i Premier, tutti i Premier che saranno in politica. E al momento l'unico che è venuto è Luigi Di Maio. Per questo facciamo un applauso. Va bene, ai saluti ci pensiamo dopo e voglio lasciare la parola a Vincenzo Accardo. Buonasera a tutti quanti voi. Oggi io voglio parlare ma parlo di fronte al Presidente Di Maio. Presidente, noi qua, Torre del Greco è stato fondato sul mare, era ma ora l'economia torrese. Già da cominciare dalla Diule, ma che sono rubato tutti i soldi. E invece di stare in galera, stanno nelle case loro. Oggi qua in marittimo, se voi vedete, era che si trovava un imbarco se andava a imbarcare. Oggi sapete cosa succede sulle navi? Parliamo, faccio un esempio così banale, dall'agosto crociere che c'è il 2% italiani, il 2% e i 10 mili è questa comunità. Senza togliere, non siamo razzisti per niente. Noi vogliamo che imbarcano anche quelle persone che vengono al terzo mondo, ma che li pagano come noi italiani, comunità. Vengono a qua, li vengono a pagare come noi. Oggi è inaccettabile che noi abbiamo fatto una manifestazione a Roma il 3 maggio, 42 pulme, 3 pulmine, 3 macchie che mettavamo in macchie e siamo andati a Roma. Nessuno di questi signori, non parli di Torre del Greco, salvando la faccia di qualcuno che erano sempre presenti a Roma. E' quello di Ercolano. Nessuno ha detto una parola. Qualcuno si è venuto a fare una foto dentro la nostra associazione. si ha preso 90.000 euro dentro di un'associazione. Non sappiamo come fa l'imbarca delle persone così. Però tutti i marittimi di Ercolano, i ragazzi che sono iscritti alla nostra associazione, più di 1.000 persone, non li caga proprio. Fanno solo favorisci queste persone. Oggi qua vi dico una cosa solo. Noi vogliamo che voi veramente fate qualcosa. Quando tutti i giorni troviamo persone che si muore di fame, persone che non possono imbarcare, persone che ci vengono a bussare per un pezzo di pane, in una busta di latte. Questi signori armatori della confidata, ammigazzi loro, il ministro di Rio, come cazzo a fare? Perché non mette la faccia? E viene in mezzo ai marittimi? Perché ritirate la legge alla Kociancic? Che ci sta sotto? Qual è il loro interesse? Voi, io, mi voglio dire solo a Koci, vi ringraziamo che siete qua. Scusatemi, io sono arrabbiato dentro. Sono talmente arrabbiato, perché stanno dicendo che noi siamo un'associazione solo da tre anni, abbiamo fatto i 3.000 iscritti, solo per un euro al mese. Ci vogliono dire, vogliono fare come voi, che quando siete aperti, ce n'è una volta nessuno. Noi siamo la verità e dopo il 4 marzo saremo di nuovo a Roma! Torbeni è Roma! E vediamo se loro fanno in cazzione! Io, voi, quello che fate, mi vedo sempre sui social, da tutte le parti. Sono derivati che un giorno la luce si aprirà, perché signore che noi stiamo da dieci giorni organizzando questa cosa, oggi tutti i giorni in mezzo all'acqua. E vi ringraziamo che siete qui presenti, perché ci sono tutte le testate giornalistiche, sperando che adesso mettete che l'associazione Marittime del Futuro e tutti i Marittime italiani si muoiono di fame! Ci sono persone dalla Sicilia, da Bari, da Messina, da Pizzocalmo, si muoiono di fame, ci diamano tutti i giorni nell'associazione, vogliamo un imbarco, come possiamo fare? Se voi andate a vedere qua, ci sono delle tratte, che oggi c'hanno ancora gli extracomunitari a bordo, costano 800 dollari, se fallisce una fabbrica di 2.000 posti di lavoro, finisce, e questa fabbrica non si fa rimettere i casi di integrazione. Noi abbiamo un'altra risorsa, gli armatori non pagano tasse, non pagano iber, non pagano niente, ma ci hanno il tricolore a poppa per rimbarcare gli extracomunitari. Vergogno! Vergogno! E questo è vergognoso! E' questo che dovete combattere! E' questo che dovete combattere tutti i giorni! Noi abbiamo invitato tutti quanti, non lo so, quante persone possono mettere la faccia in strada, ma non stiamo a disposizione per tutti. Scusate dello sfogo, passa a voi la parola. Ragazzi, annunciamo il presidente Luigi Di Maio! Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Grazie mille. Io non voglio dilungarmi molto, quindi vi dirò solo le cose che vi riguardano, perché le chiacchiere sono già troppe, dobbiamo sopravvivere a questa campagna elettorale che non sappiamo quanto durerà, ma sappiamo che i prossimi venti giorni saranno pieni di gente che verranno a promettervi cose. Io vi chiedo di farvi una domanda, quando tutti vi prometteranno di volervi aiutare, se avevano e se hanno già governato questo paese, perché non vi hanno aiutato quando stavano governando? E adesso tutti vengono a promettervi il cambiamento. Siete stati, e mi rivolgo al comparto marittimo, siete stati vittime dei business più differenti sulla vostra vita. Prima vi formavate con gli istituti pubblici e poi la formazione è diventata un business. Poi hanno iniziato ad assumere personale straniero, perché anche quello è diventato un grande business, che permetteva di assumere a un terzo, a un quarto di quello che valevate voi. Ma noi siamo una delle marinerie più esperte al mondo e dovremo essere pagati per quello che valiamo come personale. E poi non vi hanno neanche riconosciuto il lavoro usurante. Dopo tanti anni di lavoro sulle navi, dopo tanti anni di lavoro per mare, quello non è un lavoro usurante. Allora, io che cosa sono venuto a dirvi? non di fare le riforme. Basta con la storia delle riforme, le leggi, qui ci dobbiamo mettere i soldi. Prima di tutto, la vostra professionalità deve essere pagata quello che vale, quindi creiamo un reddito minimo e un salario minimo per questo cobalto, oltre al sotto del quale non si può scendere. Questo deve essere importante, perché se andiamo nel governo ci mettiamo i soldi che servono a garantire un salario minimo, sotto del quale non si può fare dumping salariale assumendo personale a un terzo o un quarto di quello che pagavano voi. Va riconosciuto il lavoro usurante, questo lo abbiamo sempre detto e lo continuiamo a dire, perché la legge Fornero va abolita e vanno soprattutto salvaguardate quelle professionalità che in questi anni sono state lasciate alla macelleria sociale e poi devono tornare i vecchi istituti tecnici con cui vi formavate, che adesso sono il grande business invece che riguarda la formazione privata e tutti i soldi che dovete mettere nella formazione di una categoria che tra l'altro non ha più il salario di una volta, non è più stipendiata come una volta. Poi è chiaro che questo settore si trasformerà nei prossimi anni, stanno cambiando tante cose, ma è un mercato in crescita, ma deve essere un mercato in crescita che fa lavorare le persone, non che sfrutta le persone o che le mette l'una contro l'altra. io penso al fatto della guerra dei poveri che si è innescata in questo comparto, del mettere gli italiani contro gli stranieri, questa è una guerra dei poveri che noi dobbiamo fermare con l'intervento dello Stato che comincia a fissare delle soglie minime per stipendiarvi, delle soglie minime per mandarvi in pensione e un sistema di formazione che non sia una speculazione di business, ma sia formazione vera. Poi ci sono tante altre cose che riguardano il vostro settore ma che riguardano pure tutti gli altri cittadini. Dove li prendiamo i soldi? Ma ci sono 30 miliardi di euro di sprechi da recuperare dal bilancio dello Stato, abbiamo un bilancio di oltre 800 miliardi di euro e là dentro ci sono 30 miliardi di soldi inutili che hanno speso in enti inutili, in stipendi inutili, in vitalizi, in pensioni d'oro che dobbiamo andarci a riprendere in 4 mazzi. Ed è così che cominciamo a recuperare le risorse per fare gli interventi di cui vi ho parlato. E poi ci sono le vostre famiglie. Questa è una terra che oltre ad avere una grande tradizione purtroppo ha anche una grandissima disoccupazione giovanile. E questa disoccupazione giovanile la si continua a combattere facendo delle leggi come Jobs Act che continuano a precarizzare la vita dei giovani e siamo arrivati al punto che il 33% dei contratti interinali in Italia dura un giorno e dicono pure che quello è il lavoro, quello non è il lavoro è una continua ricerca. Se oggi vogliamo cominciare a dare un'opportunità ai nostri giovani gli dobbiamo creare un meccanismo per cui quando cercano lavoro lo Stato li prende per mano e gli dice questi sono i lavori che servono oggi io ti formo per i lavori che mi servono poi ti faccio tre proposte mentre ti formi ti prendi un reddito ma quando ti faccio le tre proposte se non le accetti perdi il reddito se le accetti perdi il reddito perché entri nel mondo del lavoro questi meccanismi esistono in tutta Europa e consentono ai giovani di trovare lavoro solo qui solo qui tutto questo solo qui tutto questo invece non esiste perché il giorno in cui esisterà una cosa del genere il voto di scambio è finito lo sfruttamento della miseria è finito ed è per questo che i partiti non l'hanno mai fatto ora io non voglio dire tantissime altre cose perché oggi parlerà anche Beppe però ci dovete dare una mano perché sta succedendo di tutto contro di noi in questo periodo e quello che io posso dirvi quello che posso dirvi è che i prossimi 20 giorni valgono i prossimi 10 anni tra 20 giorni si decidono le sorti dei prossimi 10 anni se vogliamo affidare questo paese a quelli che hanno tollerato lo scandalo dei Ulemar ma anche lo scandalo sulle banche quelli che hanno provocato questi crack stanno a fare shopping sui grandi corsi delle città italiane mentre voi avete perso tutti i risparmi vale per le banche vale per la dei Ulemar abbiamo visto di tutto MPS MPS i più grandi buchi li ha fatti con Carlo De Benedetti che è il patron di Repubblica l'Espresso e tessera numero uno del PD e hanno difeso in questi anni coloro che gli avevano dato i prestiti e non i risparmiatori a cui avevano fregato i soldi e questo è il grande problema e allora se il 4 marzo vogliamo affidare ancora il paese a quella gente lì fate voi noi ci siamo e siamo un'alternativa poi non faremo sempre tutto bene ma avete una garanzia da noi che da noi chi sbaglia è fuori non lo facciamo ministro come fanno gli altri la parola a Beppe Grillo sono tra due presidenti una destra e una sinistra allora allora io vorrei partire un po' più da distante perché capisco il problema c'è il problema quando un armatore di qua Napoletano mi ha detto che gli armatori sono esentasse io sono rimasto ho chiesto un po' in giro nessuno sapeva questa notizia allora mi sono chiesto la legge del 98 sono stato a vederla e c'era un fondamento anche se oggi sembra un paradosso ma c'era un fondamento perché era vincolato al fatto che si assumessero persone italiane io provengo da Genova da Camogli quindi siamo cugini io ho fatto ho fatto la mia infanzia nel porto di Genova io lavoravo con i Costa i Costa armatori io me lo ricordo Costa l'armatore aspettava l'Eugenio Costa sul molo andava a vedere com'era lo stato delle eliche parlava con il suo equipaggio avevano gli equipaggi i comandanti che non mollavano la nave alla prima difficoltà era un armatore erano concetti incredibili avevano le carature delle navi un armatore non comprava le navi le affittava con delle carature andava a chiedere ai negozianti una caratura poi attrezzava armava armava la nave armatore perché armava la nave ditemi se dico delle cazzate allora si è dico delle cazzate cioè la nave veniva costruita e poi la chiglia le tutte poi si armava sopra le vele gli alberi e tutto poi partivano per i viaggi poi partivano per i viaggi era una concezione che purtroppo devo dirvi ovviamente lo sapete sulla vostra pelle che non c'è più oggi c'è questa mitica Europa che è entrata di prepotenza dentro perché dovete sapere una cosa che questo problema che dovrebbe essere un problema europeo dei porti perché abbiamo una legge tutta uguale nei porti la legge della dogana e continuano ad arrivare miliardi di prodotti contraffatti dai porti del nord perché la legge è uguale ma l'applicazione della legge è diversa allora continuamente bisogna allora l'Europa che cos'è? perché bene o male ci dobbiamo andare lì Apple perché poi il senso è quello c'era una legge fatta da uno del PD era con Cianci ha fatto anche una legge buona buona diciamo però poi alla fine delegava l'Europa se ti ricordi quella legge lì sempre lì e poi del Rio la bloccava allora se la Catalogna si stacca dalla Spagna l'Europa dice è un problema interno della Spagna se noi siamo in queste condizioni se il nostro latte olio i viaggi gli stipendi le nostre cose invece sono un problema europeo cioè allora che cos'è? vorrei capire che cos'è perché sapere che una delle categorie più privilegiate in questo paese sono gli armatori io sono rimasto stupefatto sono rimasto così solto a vedermi la legge e ho visto in effetti noi abbiamo fatto delle proposte con Carla Ruocco con Luigi Gallo le proposte sono state fatte andare lì e parlare con gli armatori abbiamo fatto delle proposte in Parlamento dicendo se volete usufruire ancora di uno sconto di tasse dovete per lo meno il 30-40% assumere personale italiano mi sembrava normale che in una tratta interna nazionale ci siano delle persone italiane perché poi siamo entrati in Europa allora non si può parlare di italiani ma di europei cioè siamo europei poi extra europei sono arrivati poi poi quelli che dovevano proteggere che sono i sindacati io ho letto il contratto che hanno fatto i sindacati 190 euro prendono 190 euro a imbarco di extra comunitari quindi ci hanno aggiunto quello non faranno mai gli interessi vostri allora qual è il nostro futuro io non lo so non posso dirti che futuro puoi avere te se ti cresceranno i capelli perché il problema è questo il problema è che cosa dobbiamo fare un mondo che sta cambiando così velocemente ci sono i cinesi che stanno comprando porti da tutte le parti sotto hanno comprato due porti a Djibuti vengono su da Djibuti comprano il Pireo il Pireo vengono su si comprano Trieste o Venezia da sopra fanno le ferrovie fanno 1300 km di alta velocità partono dalla Cina vanno in Siberia vengono giù vanno sotto il stretto di Beri 200 km sbucano in Antardine vanno in Canada negli Stati Uniti 1300 km stanno cominciando a fare il progetto di alta velocità ferrovie sopra e porti sotto e noi siamo qui in mezzo a parlare di Europa di Europa di Europa che non significa niente ma perché non ci stupiamo che arrivano questi 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 che non sono mai scomparsi io non ce l'ho mica con Berlusconi parla malissimo di noi benissimo mi preoccuperò quando parlerà bene di noi perché allora sarà veramente la propria ma come mai come mai non ci si stupisce più di tanto perché certi concetti morali non ce l'abbiamo più non abbiamo più punti di ferimento come il comandante di una volta oggi non ci sono punti di ferimento e allora non essendoci valori morali nuovi ecco che ci troviamo quelli vecchi già pronti ma allora il mondo sta cambiando alla velocità della luce io sono stato a fare uno spettacolo a Ginevra adesso vado a Zurigo allora per dirvi cosa succede nelle democrazie se tu chiedi oggi a uno svizzero chi è il presidente della federazione svizzera non lo sanno se chiedi a uno svizzero chi sono i politici di riferimento non lo sanno hanno fatto che si chiama formula magica negli anni 50 sai cosa hanno fatto hanno preso due di destra due di sinistra due di centro e una testa di calcio li hanno messi insieme va bene a rotazione un anno uno di quelli diventa il presidente della repubblica della federazione sta in carica un anno e poi girano ma non gli interessa sapere chi sono perché per qualsiasi cosa votano fanno dei referendum senza quorum allora ti arriva a casa una pustola adesso stanno votando se abolirono il canone della RAI svizzera ti arriva un opuscolo allora c'è aiutaci ti prego devi venire giù devi venire giù è il momento che ti materializzi devi volare e venire giù e non mandarci più il tuo figlio i bambini vieni giù tu adesso si è calmato vedi che si è calmato allora abbiamo queste queste cose che stanno succedendo davanti ai nostri occhi che non riusciamo forse neanche a percepire come sta cambiando velocemente tutto allora in Svizzera nelle prime pagine dei giornali o nei telegiornali non c'è nessun politico sai che in prima pagina cosa c'era nel giornale locale e qui c'è pieno di informati di informatori e di cosiddetti giornalisti sai cosa c'era? c'era un condominio di dieci famiglie costruito sopra il CERN il CERN è il bosone che gira dato che c'è un eccesso di calore che buttavano via con una pompa di calore lo intercettano e scaldano un condominio di venti famiglie sopra queste erano le cose allora lì votano qualsiasi cosa votano il tunnel del San Gotardo hanno detto volete un tunnel perché vogliamo togliere i camion dalla Svizzera e metterli sul treno hanno detto dobbiamo aumentarci l'IVA 1% e le tasse un pochino di più ci state? sì o no hanno detto sì hanno costruito il tunnel e adesso stanno restituendo mezzo punto di IVA perché hanno fatto il tunnel questa è la democrazia allora qua bisogna cominciare che voi dovete avere un sistema per cui le risorse di questo posto dei comuni rimangono qui allora le vostre tasse avete tutto il diritto di sapere dove vanno e decidere dove vanno e oggi abbiamo una tecnologia che ce la può permettere possiamo fare un referendum la settimana con un click con il tuo iPhone in mano allora noi noi siamo questo il movimento è questo darti uno strumento non vogliamo sostituirci a un potere con un altro vogliamo dare strumenti ai cittadini per i quali mediante i quali possono far valere le proprie idee del proprio paese della propria città lo Stato non conta più nulla non c'è più nessuno Stato può capire come investire nel vostro lavoro qui in questo paese qua se non quello che c'è se non le persone di qua la politica la stiamo facendo qui nulla e il mondo sta andando così il mondo sta andando così si decentra città-Stato stiamo diventando un po' come nel Medioevo con le grandi città che deliberano e le proprie risorse rimangono lì le proprie tasse rimangono lì perché le vostre tasse di qua devono essere reinvestite qua sul territorio è una sorta di federalismo ce ne sono arrivati persino quelli della Lega quando c'era Miglio quando c'era forse Boss però non l'hanno mai applicato proprio qui sono anche loro venduti al potere hanno cambiato poteri non poteri ma lui lui ci ha detto bene e sentite una cosa quando sentite una persona dire tanto sono tutti uguali state molto attenti primo non è vero che siamo tutti uguali secondo è l'alibi che si crea uno per non fare un cazzo e non dire niente perché gli sta bene così io vi abbraccio torniamo torniamo ma state tranquilli in questa battaglia la portiamo avanti tutti insieme in tutto il Movimento 5 Stelle e il quattro saremo con voi votate o non votate è lo stesso io ho elogiato uno del PD oggi ho elogiato uno che ha fatto una buona legge del PD pensate che sia uno che sia stato modificato geneticamente no le buone cose vanno appoggiate benissimo commissione di inchiesta pepe un miliardo di euro 200 milioni di banca sono usciti i soldi noi invece con un miliardo di euro tutti zitti e contenti e felici il governo deve morire loro con tutti nel Parlamento noi non dobbiamo esagerare non dobbiamo essere sì sì ma le commissioni sai quante commissioni hanno fatto di inchiesta sai come fanno le commissioni noi dobbiamo certo hai ragione hai ragione cambiamo noi dobbiamo fare una battaglia più che per noi per i nostri figli e per i nostri nipoti andiamo avanti ciao a tutti grazie salutiamo salutiamo a Peppe Grillo e Luigi Di Maio un forte applauso una fotografia completa un applauso un applauso un applauso a Peppe Grillo e a Luigi Di Maio stasera a Piazza Santa Croce a Torre del Greco signori attenzione ai cavi signori attenzione ai cavi a terra ragazzi ragazzi però non va ragazzi cortesemente proprio i giornali signori cavi c'è la corrente signori attenzione un attimo